A Sciacca la raccolta differenziata multimateriale porta a porta dal 18 settembre prevede delle modifiche. Nelle giornate di mercoledì e sabato bar, pub, ristoranti, strutture ricettive, oltre all'umido dovranno esporre anche la frazione in vetro. Per carta, cartone, plastica e lattina e per le altre tipologie rimane in vigore il tradizionale ecocalendario. Ricordiamo inoltre a tutte le utenze che il giovedì nei mastelli vanno solo rifiuti non riciclabili, niente abbigliamento. Una buona raccolta differenziata aiuta l'ambiente. Il nostro futuro è quello dei nostri figli. Buon inizio di settimana da Giuseppe Recca. Oggi è lunedì 7 ottobre. Tragedia ieri nel porto di Palermo. Un tunisino arrivato a bordo della nave Splendid della GNV dal porto di Tunis e è morto schiacciato da un articolato durante le operazioni di manovra. L'uomo, circa 30 anni, probabilmente stava cercando di entrare clandestinamente in Italia dopo avere l'uso ai controlli a Tunisi. Durante le operazioni di sbarco è rimasto sotto il pesante automezzo. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Amici e parenti non si danno pace. Oggi è la giornata del pianto per la morte del giovane Calogero in Goglia. Coinvolto sabato sera in un incidente stradale a Partan in sella alla sua moto per la giornata di oggi in concomitanza con i funerali che si svolgono nella chiesa madre a Partan nel lutto cittadino. Il drammatico incidente stradale ha spezzato la vita del giovane avvenuto in via Castelvetrano ferito un altro giovane ricoverato a Palermo. I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Sciacca, Calogero, Bono e Gaetano Cognata hanno presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale sul piano regolatore del porto nel quale non si hanno più notizie. Nell'interrogazione i due consiglieri chiedono perché l'amministrazione comunale in questi due anni non ha ritenuto di riaprire il tavolo di concertazione su questo tema. Durante l'Angelus di ieri Papa Francesco ha annunciato che l'8 dicembre terrà un concistoro per la nomina dei nuovi cardinali, tra di essi Don Baldo Reina, figlio della chiesa agrigentina che da oggi ha detto il Papa sarà anche vicario generale per la diocesi di Roma. Reina, 54 anni e nativo di San Giovanni Gemini, è entrato in seminario nel 1981. Polemiche a Sciacca per l'evento di promozione culturale delle vie dei tesori. Con un'interrogazione il consigliere comunale Giuseppe Catanzaro ha evidenziato che la manifestazione non ha beneficiato della chiusura del traffico del centro storico. Nel weekend sono stati tanti visitatori arrivati in centro per ammirare le bellezze del vasto patrimonio culturale architettonico fruibili per l'occasione. Ci saranno adesso altri due fine settimana dedicati alle vie dei tesori. Grande successo a Menfe per la 26esima edizione di Inico, nella festa del vino riproposta dopo cinque anni con l'organizzazione affidata alla Futuris Eventi che ha fatto registrare la presenza di migliaia di persone. La conclusione ieri sera con uno spettacolo coinvolgente di Valerio Festi, il gruppo di artisti che trasforma le città in palcoscenici dove il teatro e la festa si abbracciano in un vortice di emozioni. Per il sindaco di Menfe, Vito Clemente, il bilancio dell'evento è assolutamente positivo e nei prossimi anni l'offerta sarà ulteriormente migliorata. Il campionato di eccellenza di calcio non ha più squadra a punteggio pieno e San Vitolo Capo ieri nella quarta giornata ha fermato l'Atletic Club Palermo imponendogli il pareggio. Ad inseguire la capolista adesso è il Gela che ha superato 1-0 il Castellammare e si porta a nove punti, uno in meno rispetto al rosa-nero capolista. Lo sciacca ha pareggiato nell'anticipo di sabato per 1-1 contro la Parmonvalle, adesso a sei punti in classifica con un gol di pace e la folgola di Castelvetrano ha la meglio sull'Accademia Trapane per 1-0 e conquista i primi punti della stagione. È tutto per questa mattina, grazie e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.